Guido Pignotti, allenatore del quartiere Sentina, che conquista i primi tre punti. C'è ancora speranza per il terzo posto? Beh, visto che abbiamo conquistato questi primi tre punti, ancora non è chiuso il discorso qualificazione. Oggi ci è andata bene, credo che abbiamo meritato, anche se nella parte finale della partita è stata arrembante l'attacco della Salaria, che poteva anche raggiungere il pareggio, ma grazie a un grande portiere Gagliardi oggi abbiamo ottenuto un risultato importante. Quindi è il portiere il migliore in campo. Sicuramente, oggi il nostro portiere, come avesse segnato il gol vittoria, ha salvato la partita un paio di volte, è stato notevole, ma comunque complimenti a tutti i ragazzi che oggi hanno saputo soffrire molto bene. Grazie.